Ciao a tutti, benvenuti ancora una volta su questo canale, grazie a tutti coloro che si sono iscritti, continuate a farlo, siamo ad oggi oltre 52 mila, stiamo costruendo insieme una bella comunità, è importante, con questo canale io cerco di fare contrainformazione, cerco di dare spazio a persone per me molto autorevoli e soprattutto che hanno da dire delle cose molto molto importanti, ricorderete che abbiamo fatto una bella diretta con Tommaso Montanari, criticando assieme con Tuizzi di particolare il governo dell'assembramento, abbiamo parlato della guerra in Ucraina con Nicolai Lilin, autore di Educazione Siberiana, abbiamo parlato anche dei referendum con Marco Cappato e oggi siamo con Fabio Amendolara, che è un giornalista d'inchiesta che lavora per La Verità e Panorama, il quale insieme a un altro giornalista d'inchiesta che si chiama Giacomo Amadori, ha scoperto qualcosa di secondo me molto molto grave dal punto di vista politico, poi non so se ci saranno o meno dei svolti penali, ma quello che è stato poi chiamato sui giornali Baffetto Corporation, D'Alema Gate, Columbia Gate, parliamo sostanzialmente del ruolo assurdo di Massimo D'Alema, ex parlamentare importantissimo proveniente dal Partito Comunista Italiano, poi DS, il Partito Democratico, poi lasciato al Partito Democratico, nonché ex ministro degli affari esteri se non erro, ma soprattutto presidente del Consiglio dei Ministri, primo presidente del Consiglio dei Ministri proveniente dal Partito Comunista, tra l'altro ricorderete che fu sotto la presidenza D'Alema, che vennero autorizzati anche da parte dell'Italia, i raid su Belgrado, 1999, 1999, ovvero la prima guerra che fece ritorno in Europa, nel cuore dell'Europa, il bombardamento di una grande capitale europea come Belgrado, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale in poi. Ma oggi parliamo non del D'Alema politico, ma di un D'Alema, come dire, che non ci saremmo aspettati, forse, un D'Alema intermediario, probabilmente, comunque che si occupa in primissima persona della vendita di armamenti, navi da guerra, aerei da combattimento, di armi, al governo colombiano. Nello specifico stiamo parlando di navi prodotte da Fincantieri, che è una importantissima azienda sostanzialmente controllata dal pubblico Fincantieri, se non erro, controllata per il 70% circa dalla finanziaria di Cassa Depositi e Prestiti. E poi parliamo anche di aerei da combattimento prodotti da Leonardo, ex Finmeccanica, il cui presidente, no, l'amministratore delegato, si chiama Alessandro Profumo, ex presidente anche di MPS, tra l'altro nel 2020 condannato in primo grado a sei anni di carcere, nonché ad una multa di 2,5 milioni di euro per aggiotaggio e false comunicazioni sociali, quando lavoravi in MPS, lo scandalo per me più grande che vi sia stato negli ultimi 30 anni in Italia. Ecco, anche Finmeccanica è controllata dal governo italiano, il 30% delle azioni è detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Fabio, innanzitutto grazie, io ti ho chiesto di intervenire perché ovviamente in un momento così drammatico tra le conseguenze socio-economiche e anche sanitarie, in questo momento soprattutto socio-economiche della pandemia, e i venti di guerra qui in Italia, ma una guerra reale in Ucraina che provoca morti, sfollati, feriti, e un'enorme crisi economica e sociale qui in Italia, ogni qualvolta si parla di altre questioni, si rischia quasi di essere fuori tema, però in realtà proprio in un momento in cui il denaro pubblico, lo dicevo anche ieri rispetto a una serie di scandale che ci sono stati in Parlamento gli ultimi due mesi di salvataggi vari di politici, ecco in un momento in cui il denaro pubblico dovrebbe essere ancora più sacro, scopriamo, grazie al tuo lavoro, al lavoro di Giacomo Amadori, che c'è qualcuno, poi ripeto, magari tutto lecito, però comunque piuttosto particolare quel che è avvenuto, che lavorava affinché si vendessero delle armi prodotte da aziende partecipate dello Stato al governo colombiano con un'intermediazione che, parola di Massimo D'Alema, voi avete pubblicato gli audio, tale intermediazione avrebbe potuto garantire agli intermediari, immaginiamo anche a lui, un dividendo di 80 milioni di euro, parole di D'Alema. Esattamente cosa è successo, cosa avete scoperto? Intanto ciao Alessandro e grazie, grazie anche a chi ci segue. Che cosa è successo? Intanto dobbiamo dire che a questa inchiesta ci abbiamo lavorato in pool, e quindi diciamo è la squadra investigativa, chiamiamola così, che è guidata da Giacomo Amadori. Ci ho lavorato io e ci ha lavorato François de Tonquedec, un altro collega. Ci siamo divisi i compiti perché il materiale, anche se il materiale diciamo non era tantissimo, però come immaginate cercare di verificare tutto quello che era contenuto, e gli spunti che venivano fuori da quegli audio è qualcosa che ci ha tolto diverso tempo. Quindi abbiamo lavorato in pool a questa storia. Che cosa ne è venuto fuori? Ne è venuto fuori che, come dicevi, D'Alema si pone in questi audio come un broker, come un mediatore, pur sapendo che quando si tratta di armi, e lui dovrebbe saperlo bene perché ha fatto il Presidente del Consiglio, ha fatto anche il Ministro degli Esteri, quando si tratta di armi con nazioni straniere, non ci possono essere intermediari, le due nazioni, i due governi devono parlarsi per vie ufficiali. Quindi già questa è una prima stranezza. Poi tu, come dire, hai un po' spiegato che si tratta di società partecipate, diciamo anche in gran parte, da altre società del nostro governo, e comunque sono controllate e seguono gli indirizzi che vengono dati dal governo. Ma c'è anche una terza società, quindi oltre a Fincantieri, oltre a Leonardo, nella trattativa è spuntata anche Sace, che doveva fornire le garanzie, anche Sace è partecipata quasi interamente da Cassa Depositi e Prestiti, doveva fornire le garanzie per la chiusura di questo affare. Sace si occupa proprio di, come dire, sostenere il commercio estero, le imprese italiane che si occupano di esportazioni, con delle assicurazioni, chiamiamole così, e quindi delle vere e proprie garanzie sui capitali. E proprio di queste garanzie parla Massimo D'Alema durante uno degli audio, a un certo punto sembra così informato su quello che sta accadendo, anche all'interno di Sace, che dice, afferma, qui in Italia abbiamo quasi tutto pronto, abbiamo preparato le offerte, c'è la copertura assicurativa, dice a un certo punto. Ecco, la copertura assicurativa, abbiamo scoperto pubblicando un documento che faceva parte delle comunicazioni riservate tra Fincantiere e Sace, abbiamo pubblicato i contenuti di questo documento e scopriamo che in questo documento c'era proprio l'avvio, come dire, della azione per garantire la chiusura dell'affare. Quindi Fincantiere si era rivolta a Sace per coprire, diciamo, questa operazione. E nella comunicazione, scritta in inglese, comunicazione riservata, leggiamo che due dirigenti di Sace si rivolgono a Fincantiere rispondendo siamo ben lieti di darvi una mano per la conclusione di questo affare. Poi ovviamente precisano, fermo restando che ci siano tutte le condizioni, eccetera, 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 anche condizioni geopolitiche, perché questo è un altro aspetto che troviamo nella chiacchierata di D'Alema, perché se Sace probabilmente lo, come dire, lo precisa a Fincantieri quasi con una formula standard, D'Alema invece nella chiacchierata dice proprio, eh, dobbiamo muoverci, perché se cambia la situazione politica e si riferisce alla Colombia, insomma l'affare lo dobbiamo concludere prima. Scusami Fabio, tu parli dell'audio tra D'Alema e Edgar Fierro? Esatto. Allora, cerchiamo di semplificare. Appunto questo pool di giornalisti d'inchiesta ha scoperto che D'Alema si è interessato in prima persona ad un affare, a una vendita di armamenti tra Fincantieri e Leonardo, ex Finmeccanica, e il governo colombiano. Nello specifico D'Alema, si evince dagli audio pubblicati dalla Verità, preme affinché tale affare si faccia il prima possibile, un affare credo che sia complessivamente di 2,2 miliardi di euro. Sì. Quindi, come? Questa è la cifra, diciamo, e poi la provvigione da 80 milioni. Esatto, allora, considerate innanzitutto, sono molti, molti soldi, per carità, sono aziende anche partecipate dallo Stato. Leonardo, se non erro, è la terza azienda di difesa in Europa, è la tredicesima al mondo, quindi parliamo proprio di Colossi, e quindi un affare molto, molto importante, considerate quanti sono 2,2 miliardi di euro. Ogni anno il governo italiano investe nelle università pubbliche 7 miliardi di euro. Questo affare è un affare da 2,2 miliardi di euro, ma non è negativo fare gli affari, al di là che si possa considerare non etico produrre o vendere armi, ma questo è un altro discorso. E D'Alema parla di un dividendo 80 milioni di euro per noi. Qual è esattamente cosa dice? Poi Fabio, ricordami la frase esatta quando D'Alema parla di 80 milioni di euro. Diciamo che, intanto, si pone, diciamo, anche con un atteggiamento quasi persuasivo nei confronti del suo interlocutore, che, dobbiamo ricordarlo, è un paramilitare colombiano, che lui appella senatore, forse è stato presentato come parlamentare colombiano. In realtà è un, diciamo, un ex paramilitare che si porta nel curriculum pure, diciamo, qualche grave reato penale. Quindi parla con questo soggetto che probabilmente deve essersi lamentato perché non aveva visto fino a quel momento un euro e cerca di spiegargli che anche lui, anche D'Alema, non ha ricevuto soldi diciamo dall'affare e però dice mica siamo stupidi, noi stiamo lavorando affinché, diciamo, tutto vada in porto e alla fine ci divideremo questi 80 milioni. E lo fa. Fabio, dicevi tu, Edgar Fierro, la persona con la quale, ripeto, un ex presidente del Consiglio dei Ministri, politico importantissimo, tra l'altro cerca anche di ritornare sulla scena politica. Se non erro, si è candidato alle ultime elezioni politiche del 2018 con liberi uguali nel collegio uninominale in Puglia e venne battuto da Barbara Lizzi. E quindi comunque non parliamo di, insomma, parliamo di un grande politico. Innanzitutto è inusuale che un ex presidente del Consiglio si occupi direttamente dell'intermediazione relativa a vendita di armamenti che, come dicevi tu, dovrebbero essere venduti in un rapporto diretto tra governi. Ma nello specifico se ne occupa parlando al telefono con un ex paramilitare. Dovete sapere che, insomma, la Colombia è stata sotto guerra pseudocivile per molti, molti, molti anni. Ora la situazione è leggermente migliorata, ma tra virgolette, tra le forze di liberazione, le FARC, le forze armate, la Sarebeldes, credo, Revoluzionars de Colombia, e il governo colombiano che ha utilizzato gruppi di paramilitari violentissimi, spesso e volentieri o quasi sempre legati al narcotraffico. In Colombia li chiamano Paracos. Io l'ho scritto, tra l'altro ho ritirato fuori il mio primo libro, mi faccio un po' di pubblicità che si chiama Sicario a 5 euro e ho dedicato diversi capitoli ai Paracos, ai paramilitari colombiani a quello che hanno fatto, soprattutto a danno della popolazione, dei contadini, li accusavano di sostenere le forze rivoluzionari, hanno fatto veramente, veramente carne di porco della povera gente. Tra l'altro questo libro Fabio l'ho dedicato a un signore che si chiama Guillermo Antonio Cioasern, il padre di una mia amica che mi accompagnò a Medellin, nelle zone di Antioche a fare tutte le inchieste, perché anche io ho fatto delle inchieste non importanti come le tue, me le ho fatte anch'io e questo signore venne ucciso dai paramilitari colombiani. Ecco, Massimo D'Alema parla con un soggetto del genere e di un affare che dovrebbe essere fatto direttamente tra governi e di un possibile dividendo da 80 milioni di euro. La prima domanda è ma ti sembra usuale una cosa del genere? Anche noi siamo rimasti davvero sorpresi, anche se devo dire che D'Alema l'avevamo già beccato a fare diciamo delle intermediazioni, se così si possono definire, perché un po' di tempo fa mentre studiavamo diciamo così le stranezze legate alle operazioni di Domenico Arcuri quando era commissario straordinario per l'emergenza, da un allegato a una mail ricevuta dalla protezione civile becchiamo una proposta di una società cinese per la vendita di ventilatori polmonari e quasi in coda a questa comunicazione questa proposta da società cinese spunta di nuovo il nome di Massimo D'Alema che spiegano nella mail ha rassicurato l'azienda sulla riuscita dell'accordo con la protezione civile italiana. Quindi già come dire l'avevamo trovato in questa situazione un po' da intermediario e adesso chiaramente siamo rimasti stupiti per la portata della questione però effettivamente si pone anche questa volta da intermediario e i suoi compagni di viaggio oltre ad esserci questo ex paramilitare colombiano anche tra gli italiani insomma ci sono dei protagonisti davvero interessanti a livello giornalistico per esempio nel nel suo gruppo c'è questo ex sindaco di Carmiano un paese della provincia di Lecce che è stato comune sciolto per presunte infiltrazioni mafiose nel 2019 lui era in carica questo Giancarlo Mazzotta che insomma quando abbiamo trovato così il suo nome legato alla vicenda di D'Alema anche questo ci ha particolarmente sorpresi intanto perché è un esponente di Forza Italia e se diciamo con il colombiano che è un paramilitare di destra già avevamo fatto un salto sulla sedia perché tu hai introdotto come dire il curriculum di Massimo D'Alema e tutto è forché insomma uno che come dire aveva dei legami o che guardava verso destra e adesso lo troviamo con l'ex paramilitare di destra poi lo troviamo in relazioni con l'ex sindaco di Forza Italia ma non è questo diciamo l'aspetto più pruriginoso è che questo ex sindaco che amministrava il comune sciolto per mafia abbiamo scoperto che si porta dietro tre processi giudiziari ancora diciamo in corso due in corso uno c'è una richiesta di rinvio a giudizio davvero per questioni funamboliche insomma in uno è processato perché accusato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso perché nel tentativo di controllare una cassa rurale dove il presidente come presidente c'era il suo fratello coincidenza soprannominato in paese il colombiano bene nel tentativo di controllare questa cassa rurale al momento delle elezioni per il rinnovo del consiglio d'amministrazione parte un suo cugino omonimo peraltro Gianni Mazzotta molto noto dicono gli investigatori nelle carte che abbiamo consultato molto noto negli ambienti della criminalità organizzata leccese quella della Sacra Corona Unita che va da diciamo chi voleva presentare una lista alternativa tra i soci di questa cassa rurale e comincia a intimare che gente cattiva del suo ambiente preferiva che sostenessero suo cugino e così va a finire che diciamo non viene presentata l'altra lista lo stesso meccanismo viene usato nel gestire gli affari del comune perché c'era un consigliere di maggioranza che voleva dimettersi in un momento delicato della fase amministrativa di Carmiano parte di nuovo il cugino del sindaco raggiunge questo consigliere comunale e diciamo con quello che i magistrati definiscono un metodo mafioso fa ritirare le dimissioni al consigliere e il consigliere torna a dare sostegno al cugino sindaco che poi diciamo peraltro si ritrova poi processato anche per istigazione alla corruzione di agenti della polizia municipale per questioni legate abusi di lizi una truffa carosello insomma è un personaggio davvero diciamo quindi Fabio che se come dire è possibile plausibile che D'Alema non conoscesse il curriculum appunto di Edgar Fierro che gli avevano presentato come senatore è più difficile che non conoscesse il curriculum o comunque i guai con la giustizia anche se è a processo questo ex sindaco non è stato ancora condannato di questo suo come lo possiamo chiamare collaboratore anche rispetto a questo possibile affare di vendita di armi bastava fare una piccola ricerca su google anche noi siamo partiti da lì quando abbiamo cominciato ad analizzare i nomi del giro dell'affare colombiano e digitando su google il nome di questo ex sindaco conosce pure una sfilza di articoli della stampa locale firmati soprattutto da una collega Fabiana Pacella che diciamo si è occupata a fondo delle come dire scorribande di questo ex sindaco quindi ci voleva veramente poco due domande al volo uno D'Alemma ha risposto quando sono usciti fuori gli audio che lo riguardano questa telefonata con il paramilitare lui ripeto che dice lavoriamo non perché siamo stupidi ma perché ci sono 80 milioni di euro per noi circa il 2% appunto della commessa di vendita di armi D'Alemma come ha risposto se ha risposto poi se Leonardo ha risposto perché mi domando in che rapporti cerchiamo anche di andare in alto perché poi io posso criticare possiamo criticare quanto possiamo eticamente o comunque non politicamente diciamo possiamo criticare o stupirci il comportamento di un ex presidente del consiglio perché poi io spesso Fabio dico mi sento l'unico stronzo qui che è da ex deputato non ha utilizzato mai il proprio ruolo non ho mai alzato il telefono per dire perché non non mi sono mai infilato in affari leciti o illeciti nel senso leciti anche non leciti chiaramente no non ho mai chiesto per me un posto in una partecipata lo fanno tutti tranne il sottoscritto ecco se posso considerare boh io non l'avrei mai fatto da ex presidente del consiglio infilarmi a fare intermediazioni di vendita di armi poi magari è tutto lecito però se fosse lecito evidentemente qualcuno di Leonardo doveva saperla questa cosa quindi che rapporti ci sono poi tra l'amministratore delegato Alessandro Profumo ripeto condannato a sei anni di carcere in primo grado per me doveva dimettersi o comunque i vari governi avrebbe dovuto chiedergli le dimissioni Alessandro Profumo perché non è sano poi è innocente fino a sentenza passata in giudicato ma non è sano che la tredicesima azienda di difesa a livello mondiale sia amministrata da un uomo ad oggi condannato in primo grado per aggiotaggio e a pagare 2,5 milioni di euro di multa per lo scandalo in generale che ha riguardato MPS ma comunque saremo strani noi quindi ti domando ripeto cosa ha risposto D'Alema come si è giustificato se si è giustificato e che rapporti ci sono tra Profumo e D'Alema e per quale motivo Profumo sta zitto perché io non ho sentito dichiarazione da parte dell'amministratore delegato di Leonardo riguarda appunto la presenza di un ex presidente del Consiglio dei Ministri che sta lì chiama e si occupa della vendita di armi tra le aziende partecipate italiane importantissime e il governo colombiano Senti intanto sì D'Alema ha risposto chiaramente non ha risposto a noi così come ha fatto anche l'ex sindaco Mazzotta ha risposto su altri giornali così che diciamo le domande più scomode nessuno gliele ha poste giornali che si sono accontentati diciamo di queste pseudo risposte perché D'Alema che cosa dice? Dice intanto che lui non fa l'intermediario dice che tira fuori la politica dice che si è messo a disposizione perché si erano presentati da lui due consiglieri del ministero degli esteri colombiano ora però perché da lui qualsiasi giornalista con un po' diciamo di curiosità gli avrebbe chiesto almeno i nomi di questi due come dire emissari del ministero degli esteri tanto per poter verificare avere un metro come dire un parametro per poter cercare di capire se effettivamente quello che poi ha voluto raccontare D'Alema sia qualcosa di di reale ma nessuno gli ha chiesto chi erano questi due diciamo il collega si è accontentato dell'indicazione sui due generici consiglieri del ministero degli esteri colombiano e dice che questi due consiglieri gli hanno chiesto di fare da tramite in questo caso sì lui lo ammette con le società perché diciamo avevano bisogno diciamo di 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 un link diciamo così di entrare in contatto questa è la sua spiegazione questa sarebbe la sua azione che però entra in contatto se io sono rappresentato del governo non lo so della di un altro paese della dell'Argentina e voglio comprare delle armi prodotte da Leonardo fincantiero delle navi cioè rappresentate il governo c'è ora la mia diplomazia al ministero affari perché devo contattare uno che non ha nessun incarico pubblico ex presidente del consiglio chiedendogli di fare da tramite da aiutarmi a creare un link perché non mando un email o non chiamo direttamente l'ufficio il gabinetto del ministro della difesa o non lo so del ministro dell'economia e delle finanze o direttamente non mando delle comunicazioni a fincantieri o a o a Leonardo non capisco proprio cosa centri quando lui parla ci sono 80 milioni di euro per noi cioè noi chi pure per lui gliel'hanno fatta questa domanda a D'Alema ma a lei gli spettavano dei denari sì o no perché dice 80 milioni di euro ci spettano ecco perché D'Alema doveva spiegare con noi diciamo tutta una serie di questioni che restano aperte e lo stesso ha fatto l'ex sindaco ha parlato con un altro giornale proprio per dribblare chi conosce ormai in modo riteniamo abbastanza approfondito questa trattativa e parlavi prima di del rapporto con Profumo io ricordo credo si tratti del 2015 giù di lì una un incontro una cena per come dire sostenere la fondazione sponsorizzata da D'Alema quale? Italiani europei? Italiani europei e ricordo di questa cena alla quale era presente appunto Profumo per fare diciamo così questo endorsement alla nascente fondazione quindi conoscono senz'altro Profumo e D'Alema e lì quindi diciamo i due sicuramente si conoscono altrimenti Profumo non sarebbe stato diciamo a quella cena quindi un rapporto tra i due sicuramente c'è ma così come c'è sicuramente un rapporto tra D'Alema e i vertici di Sace anche lì diciamo gran parte del management è entrato quando D'Alema era diciamo al governo quindi anche come dire le informazioni di prima mano che D'Alema sembra avere durante le sue chiacchierate registrate probabilmente arrivano direttamente da chi poi in questa trattativa che poi gestiva effettivamente questa trattativa in modo ufficiale quindi però da tutte come dicevi da tutte le società tutte le società si sono chiuse nel arriccio si sono chiuse nel silenzio sia Fincantieri sia Leonardo quindi tu sollecitavi Profumo ma insomma non è l'unico ad essersi chiuso nel silenzio anche Sace che io ho contattato personalmente insomma dall'ufficio stampa mi hanno fatto sapere che la linea è proprio quella di non commentare sembra che si siano messi d'accordo insomma sono tutti e tre sai qual è per me il dramma in questa situazione l'assenza di opposizione in Parlamento io mi auguro gli ex del Movimento 5 Stelle che ora stanno in un gruppo di siano alternativa facciano come dire giustamente pressione presenti in interrogazione parlamentare interpellanze urgenti facciano venire qualcuno del governo banalmente anche il ministro dell'Economia delle Finanze o il ministro della Difesa Guerini che ovviamente hanno altro a cui pensare in questo momento drammatico ma è anche il loro dovere perché io avrei fatto negli anni nostri ma diamo la quattro per arrivare a delle informazioni per quantomeno per costringere il governo a metterci la faccia e a dire cosa ne pensa del fatto che un ex presidente del Consiglio dei Ministri ripeto un politico ex politico tuttora politico importantissimo Massimo D'Alema si occupa direttamente di un affare del genere per far sì quantomeno appunto per costringere il governo a darci la sua visione poi a livello giornalistico voi fate il vostro dovere spero che altri giornali ci vadano su ho letto che la notizia è stata sicuramente ripresa dal Fatto Quotidiano ho visto che strisciano notizia con Pinuccio ha seguito un po' la questione Pinuccio è pugliese però veramente è una roba che noi abbiamo noi come pubblica opinione il diritto di conoscere perché magari è veramente prassi noi abbiamo un ex presidente del Consiglio Ministro Matteo Renzi che se ne va all'estero si fa pagare da governi esteri lecitamente per l'amor di Dio ma addirittura da paesi come Arabia Saudita il cui re ereditario secondo fonti giornalistiche piuttosto autorevoli manda a uccidere e a smembrare i giornalisti ostili e mi riferisco a Cascioggi e Renzi prende denari qui abbiamo un altro presidente o ex presidente del Consiglio Ministri che invece parla dicendo qua ci stanno 80 milioni di euro per noi quindi presumibilmente se l'affare che non è andato in porto fosse andato in porto ci sarebbe stata una un dividendo importante per una serie di persone tra cui presumibilmente poi ci dicesse lui rispondesse assolutamente no è tutto falso però spiegasse rispondesse a queste domande è il suo dovere voglio capire se questa è una prassi nel senso se uno che fa presidente del Consiglio dei Ministri poi ha questi agganci enormi anziché tornare alla sua vita dopo aver guadagnato immagino tanti tanti denari da politico pensato a dare ma non lo so la prima volta che è stato eletto quante legislature si è fatto quanto si è beccato soltanto come TFR come assegno di fine mandato da parlamentare la repubblica e poi mi sconvolge anche il fatto che nessuna ripeto non ho letto dichiarazione a parte di alternativa però nessun'altra forza politica ci va sopra con forza perché questo è il mio giudizio politico come sai sottano stanno tutti al governo tutti quanti al governo assieme da diciamo Bersani fino a alla Lega cioè alla frangia più di destra tra virgolette in Parlamento c'è anche la Meloni che non sta al governo ma sostiene forza Italia sta al governo insieme a forza Italia e la Lega nei consigli comunali o nelle consigli regionali nel senso veramente manca l'opposizione in questo paese anni fa saremo riusciti come il Movimento 5 Stelle ad accendere fari lo facevamo spessissimo cioè arrivavano notizie di stampa inchieste fatte da giornalisti meritevoli come voi e noi come movimento eravamo l'opposizione ci andavamo sopra chiedevamo spiegazioni presentavamo atti chiedevamo al governo di venire in aula a riferire presentavamo interrogazioni parlamentari ci rispondevano ogni due mesi e noi ogni giorno lì a ricordare ancora non ci avete risposto facevamo il nostro vero di opposizione io noto proprio che l'opposizione manca ed è un dramma perché poi quando manca l'opposizione quando non si accendono i fari sul governo o nelle migliore delle ipotesi vengono compiute delle scelte politicamente nefaste o capita anche che vengano poi adottati comportamenti non proprio inclini alla moralità ecco perché io insistevo ma questo è un inciso sul fatto che il momento di quest'era non entrasse mai nel governo dell'assembramento ma chi è causa del suo mal pianga se stesso ma io posso dire dirti quello che mi aspetto da questa vicenda che ancora non ci sembra completamente chiarita neanche sotto l'aspetto giornalistico ma sicuramente mi aspetto che Parlamento questa questione finisca perché se ai giornalisti il buon profumo da Sace eccetera ci fanno sapere che con noi non vogliono parlare beh poi diciamo nelle sedi istituzionali ufficiali non possono mantenere questo atteggiamento quindi siccome c'è tanto ancora da approfondire e questo non lo dico io ma lo dice un sottosegretario del governo che è nulle sottosegretario alla difesa lui è adesso è di Forza Italia no? Sì parte dalle istituzioni dalle istituzioni questo come dire porre delle questioni ancora aperte sulla trattativa quindi mi aspetto che il Parlamento se ne occupi ma non solo mi aspetto che anche anche diciamo a livello giudiziario qualcuno cerchi di capire se tutto è andato nel modo corretto prima tu ci parlavi di Renzi beh Renzi ogni qualvolta salta fuori e lungi da me diciamo io non sono uno che assolutamente può prendere le parti di Renzi dopo essermi occupato diciamo in modo veramente abbondante sia di lui che dei che dei genitori sempre insieme diciamo al gruppetto investigativo della verità guidato da Amadori quindi Renzi ogni qualvolta salta fuori una storiella poi le procure si buttano al capofitto e cercano di capire nel bene o nel male a volte vanno diciamo portano a dei risultati le inchieste a volte finiscono nel nulla però si cerca di capire che cosa è accaduto beh mi aspetto che anche in questo caso diciamo così qualcuno abbia la curiosità oltre a noi della verità di cercare di capire effettivamente come sono andate le cose io ti ringrazio Fabio ripeto da cittadino vi lascio con alcune domande uno cosa significa esattamente io questo chiederei ma immagino anche tu a D'Alema quando lei parla di 80 milioni di euro per noi intende dire che ci sarebbe anche stata una parte per lei Presidente D'Alema quanto questa parte a fronte di cosa c'è un contratto scritto a qualche parte che lei collabora come intermediario lo sanno Leonardo lo sanno quelli di Fincantieri ecco prima domanda a D'Alema poi la domanda al governo cosa ne pensa il ministro Guerini il ministro dell'economia cosa ne pensano di questa roba qua e magari anche il ministro Di Maglio che cosa ne pensa di questa roba qua perché il ministro degli esteri e poi e poi sì anche dovrebbe esprimersi il management di Fincantieri e di Leonardo credo che hanno un dovere essendo pagati anche con denaro pubblico perché poi sono amministratori di aziende partecipate appunto dallo Stato italiano quindi sostanzialmente le nostre tasse vanno anche a pagare questi stipendi credo che abbiano dei doveri nei confronti della pubblica opinione per cui mi aspetto che Profumo ci dica no assolutamente no mai sentito che D'Alema si occupasse di questa roba qua oppure sì non so ha fatto un favore a Fincantieri o a Leonardo in tal caso evidentemente lo sapeva capiamo se è prassi appunto che un ex parlamentare un ex presidente del Consiglio faccia dei favori si metta a disposizione gratuitamente anche se c'è il suo audio che parla di 80 milioni di euro nel senso sono delle domande che credo la pubblica opinione ha il diritto di fare e coloro che sono pagati con i nostri denari dal governo al management delle aziende partecipate hanno il dovere di rispondere a queste domande punto in un paese civile avviene questo in un paese incivile si nascondono dietro silenzi sperando che anche che i drammi enormi che stiamo vivendo in questo momento nascondano altre questioni non lasciano spazio appunto ad altre questioni che vanno oltre la guerra e anche le conseguenze socio-economiche della pandemia perché sai io ho fatto il parlamentare quindi mi capitava anche di incavolarmi quando magari avevamo uno scandalo o un'azione politica da fare poi succedevano delle cose che a livello giornalistico si dice coprono coprono il resto ripeto in un paese incivile determinate persone non parlano stanno zitte sperando che passi rapidamente la tempesta e ahimè ancora una volta scommettendo sulla scarsa memoria di una parte della pubblica opinione che tende purtroppo a dimenticare molte 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 nefandezze e quando noi dimentichiamo in un certo senso permettiamo che tali nefandezze possano compirsi nuovamente io credo che la prima qualità di un popolo dovrebbe essere una bella bella memoria io mi sento di sottoscrivere tutte le domande che diciamo hai posto pubblicamente e come te attendo con grande curiosità delle risposte soprattutto dalle istituzioni perché ci sta che i broker si come dire trincerino dietro il no comment ma che quando lo fanno le istituzioni questo lo dico diciamo da giornalista anche per quel poco di esperienza che in questo campo ho fatto quando le istituzioni si nascondono dietro il no comment allora è proprio il caso di andare fino in fondo e di cercare di capire cosa c'è dietro quindi così come dicevi tu aspettiamo che qualcuno si alzi e ci spieghi effettivamente come è andata questa storia della trattativa con la colonna anche perché davvero concludo e ti saluto ringraziandoti dato che si parla per me in maniera vergognosa ripeto in un momento in cui fino all'altro ieri ci hanno detto che giustamente che il pianeta è a rischio morte e noi siamo a rischio sparizione estinzione per i cambiamenti climatici per i danni ambientali quindi urge la transizione energetica ecologica e compagnia cantante ecco in questo momento si ritorna alla corsa al riarmo come durante la guerra fredda Guerini parla di nuovi armamenti investimenti la Germania tutti quanti tutti quanti proprio l'essere umano non impara mai dalla storia ecco dato che si va per me in maniera vergognosa in quella direzione pretendere delle risposte rispetto ai comportamenti leciti o non leciti questo non lo sappiamo in merito appunto alla vendita di armi alla presenza di intermediari al fatto che questi intermediari siano o non siano ufficiali come ci si metta a disposizione le aziende che ruolo ha avuto D'Alema eccetera eccetera ecco tutto questo penso che sia funzionale anche utile in un momento in cui ripeto per me dannatamente negativo i politici pensano ad un'ulteriore corsa a riarmo quindi acquisto di armi vendita di armi produzione di armi commesse di armi ecco dato che sono denari enormi quelli che girano nell'industria bellica sempre chiedere pretendere maggiore trasparenza è un diritto e fornirla da parte dei governi e da il management delle partecipate di stato è un dovere grazie Fabio a te al pool che si è occupato appunto di questa inchiesta che voi recentemente avete ribattezzato baffetto corporation e vedremo che cosa accadrà e vedremo se altri giornalisti ci andranno sopra per pretendere che i diretti interessati forniscano delle risposte alla pubblica opinione grazie a te e a tutte le persone che ci hanno visto e ascoltato grazie a te grazie a te